In occasione del convegno internazionale Foodinnova 2017 dedicato alla ricerca in campo alimentare a Cesena, è stata organizzata una visita guidata per i ricercatori e relatori provenienti dall'estero. Tra le tappe della visita, anche la Pinacoteca della Cassa di Risparmio di Cesena con le sue opere, appartenenti ai secoli che vanno dal XV al XVIII. La fondazione che parte di questo progetto è lieta proprio di far vedere ai nostri ospiti che vengono da tutto il mondo questa bellissima collezione che è dalla Cassa della Fondazione e ho visto anche l'interesse con cui la visita è avvenuta, anche con osservazioni che dimostrano quanto sia preziosa ed importante questa collezione. Quindi è anche questo un modo, tutte le occasioni che ha la città di farsi vedere, con la Pinacoteca della Cassa di Risparmio, con la Biblioteca Maratestiana, con i vari monumenti spettacolari della nostra città, dobbiamo sfruttarle tutte queste occasioni. Grazie a tutti.